Due incendi sulle cui cause sono in corso accertamenti hanno interessato altrettante attività balnearia a Squillacelido e Isca Marina sulla costa ionica catanzarese, provocando seri danni. In entrambi i casi non si esclude nessuna pista sulle origini dei roghi. A Squillacelido, dove sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, le fiamme hanno interessato parte dell'attività, che comprende anche un ristorante-pizzeria con una struttura in cemento e laterizi adibita a bar. L'intervento è valso alla completa estinzione delle fiamme e la messa in sicurezza del sito. Sul posto, in precedenza, era intervenuto anche il titolare che aveva provveduto ad una prima opera di spegnimento in attesa dell'arrivo dei soccorsi. L'altro episodio, che ha visto impegnato il personale del distaccamento di Soverato, Chiaravalle e della sede centrale di Catanzaro, ha riguardato uno stabilimento balneare costituito da due strutture in legno lamellare completamente avvolte dalle fiamme. La situazione è stata posta sotto controllo, anche se sono rimasti attivi alcuni focolai. Avviati gli accertamenti da parte dei carabinieri del luogo.